Sconfitta casalinga ma a testa alta per il tennis club Pistoia che nella quinta giornata del girone A del campionato di Serie A ha dovuto scedere il passo ai campioni d'Italia uscenti del Park Tennis Genova per 4-2. Nonostante la sconfitta e la certezza di disputare gli spareggi salvezza però i ragazzi capitanati da Cristian Belliti sono usciti dall'impianto di Via delle Olimpiadi fra gli applausi. I problemi maggiori la squadra pistoiese li ha avuti negli incontri che hanno interessato i giovani. Brunetti e Vatteroni infatti hanno sofferto e sono stati battuti dai quotati Alessandro Ceppellini e Gianluca Magier. Discorso diverso invece per i numeri 1 e 2 con Andrea Vavassori che ha ceduto il passo al mancino Andrea Basso dopo un match molto tirato e con Adelchi Virgili che ha conquistato uno spettacolare successo 7-5-7-5 contro Andrea Arnavoldi numero 226 delle classifiche mondiali con due esperienze nel main road del Roland Garros. Lo stravagante giocatore fiorentino ha proseguito la sua straordinaria performance anche nel primo doppio in coppia con Vavassori che si è permesso il lusso di battere i colleghi del Parc Genova. Uno dei quali il danese Frederick Nielsen vanta nel suo palmarès addirittura un successo nel doppio a Wimbledon nel 2012. L'ultimo KO infine è stato fatto registrare dal duo Brunetti e Vatteroni. Domenica prossima i campi Eneacotti ospiteranno la sfida con la Niene Roma, poi spazio e play out. Grazie.